nuovito noo no 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 non sai che è su genio che a mezza villa metto un muro è un muretto Ivaldo ahi ecco ti fenomeno no 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 è stato lui che guidava e io però poi con calma cazzuolo io non si preoccupi Adesso dobbiamo andare Vogliamo andare? Andiamo Andiamo, 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 andiamo Dai